a quei pochi che mi amano e che io amo, a quelli che sentono più che a quelli che pensano, ai sognatori e a quanti credono nei sogni, come se fossero l'unica realtà. Io offro questo libro di verità, e non per la verità che essa contiene, bensì per la bellezza che abbonda nella sua verità e che lo rende vero. A costoro io offro il mio lavoro come un semplice prodotto d'arte, diciamo come un racconto, o se non dovesse sembrare troppo superbo da parte mia, come un poema. Ad ogni modo è mio desiderio che quest'opera sia giudicata, dopo la mia morte, solo come un poema. Questo è l'inizio di Eureka, l'ultimo libro di Edgar Allan Poe, dedicato niente meno che alla struttura fisica, metafisica e spirituale dell'universo. Un misto tra sforzo logico, immaginazione, impegno letterario, nel raccontare il cielo e le stelle che di notte lo illuminano. C'eravamo infatti lasciati nella scorsa puntata girovagando in un'alta stanza del palazzo di Sofia, da dove è possibile guardare le stelle, che sono appunto lo spunto filosofico di quella stanza. In effetti è impossibile non farsi domande di fronte a quella vastità che ci circonda. Per esempio, così scrive Leopardi, guardando la luna e le stelle. E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Nella scorsa puntata abbiamo provato ad ascoltarle le stelle, anche seguendo il suggerimento di Paul Troyes, cercarle alzando lo sguardo, finché ci vinca il pensiero che esse non sono solo sopra di noi, ma tutto intorno. Quasi a ritrovare il detto di Ermete Trismegisto. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per le meraviglie di un'unica cosa. Ed è facile perdersi quando ci addentriamo nel mistero della notte e delle sue luci. Dobbiamo affrontare la fatica di pensare all'infinito e all'eterno. Anche se, come scritto Carl Sagan, forse non siamo altro che farfalle che svolazzano per un solo giorno, pensando sia per sempre. E non è da gesto un affare da poco, infilarsi nei misteri che raccontano le stelle. Bisogna essere coraggiosi per porsi domande sulle origini e sull'infinito che le stelle ci offrono. Perché bisogna superare anche lo scherzo di Hawkins, che si chiedeva cosa faceva Dio prima di creare l'universo. Beh, preparava l'inferno per le persone che si pongono domande del genere. Ma siccome ne abbiamo lo stesso, la possibilità e la voglia, proviamo ad addentrarci in queste domande che fanno tremare i polsi. La prima domanda è, l'universo è finito? Per tentare di rispondere a questa domanda seguo il ragionamento dell'astrofisico Amedeo Balbi, del quale consiglio anche il canale su YouTube per approfondire. E per rispondere a questa domanda possiamo prenderla dal punto di vista geometrico, dunque dello spazio, seguendo la scienza più moderna. Ora, se l'universo è davvero finito, allora è chiuso su se stesso, come una sfera. Oppure l'universo è aperto, o piatto, e allora è infinito. Posso allora andare a valutarne la curvatura? E effettivamente la curvatura sembra sia nulla su grande scala. Dovrei allora forse dedurne che sia infinito? È pur vero che la nostra misura nello spazio dell'universo è limitata a quello che conosciamo. Se prendessimo una porzione più grande, se fosse possibile, di quella che abbiamo sotto mano, forse troveremmo una diversa curvatura. E allora possiamo decidere di prendere la domanda se l'universo sia finito o infinito da un altro punto di vista. Possiamo prenderla dal punto di vista del tempo. In questo caso, quello che possiamo osservare è finito. Perché guardare lontano nello spazio significa guardare indietro nel tempo. Quando guardiamo una luce di una stella ad un milione di anni luce di distanza nello spazio, stiamo guardando non la stella per come è ora, ma per come era un milione di anni fa. E quindi quanto indietro possiamo guardare? Circa 14 miliardi di anni fa, al tempo del Big Bang. Non possiamo andare più indietro. L'universo, da questo punto di vista, ha quindi un orizzonte. Sebbene, se potessimo spostarci ancora una volta oltre questo punto di vista, probabilmente vedremmo un altro orizzonte. Non necessariamente c'è un bordo. Inoltre, c'è una complicazione ulteriore. Nei circa 14 miliardi di anni di tempo necessari a far raggiungere la luce dall'orizzonte a noi, lo spazio si è espanso. Ora probabilmente il limite osservabile dell'universo è di circa 92 miliardi di anni luce. Quindi non possiamo sapere se è finito o infinito in via definitiva. Possiamo però dire che l'universo osservabile è finito, per quanto enorme. Questo per i dati che abbiamo. Nel corso della storia c'è chi ha cercato di andare oltre, non solo con i dati, o con le ipotesi, o la sperimentazione, ma soprattutto con l'immaginazione. Anche in questo caso non è facile. Se immagino un universo infinito, mi blocco, perché non riesco ad immaginare davvero qualcosa che sia completamente privo di limiti. Provateci. Ma se immagino un universo limitato, mi chiedo, cosa c'è oltre? Per esempio, ha cercato di ragionarci Lucrezio, nel Dererum Natura, quando ha scritto «Supponiamo che tutto lo spazio esistente sia limitato e che qualcuno corre avanti, all'estrema riva, spingendosi fino all'ultimo punto e scaglie un dardo volante. Preferisci tu pensare che esso, lanciato con valide forze, vada dove è stato vibrato e voli lontano, o credi che qualcosa possa arrestarlo e ad esso opporsi. O l'una o l'altra ipotesi, occorre infatti che tu ammetta e scelga, ma sia l'una che l'altra ti preclude ogni via di scampo e ti obbliga a riconoscere che il tutto si estende senza confine. Infatti, sia che esista qualcosa che largesti e gli impedisca di giungere dove è stato vibrato e di conficcarsi nel segno, sia che più oltre esso voli, il punto donde partito non è il confine estremo. In tal modo ti incalzerò e, dovunque porrai l'estrema riva, chiederò che sarà poi del dardo. Averrà che in nessun luogo si potrà fissare il confine e la possibilità della fuga sempre allontanerà la scappatoia. Lucrezio era convinto dunque dell'infinità dell'universo. I stoici, invece, erano convinti della sua finitezza. Ma ci troviamo di fronte ad un problema troppo complesso per poter essere risolto solo dalla logica e dall'immaginazione. Forse perché, come diceva Kant, non possiamo fare esperienza diretta dell'infinito e di ciò di cui non possiamo fare esperienza diretta, possiamo pensare ma non possiamo conoscere con certezza. O, come ha scritto Edgar Allan Poe in Eureka ancora, infinito, questa, come le parole Dio, Spirito e alcune altre di cui esistono equivalenti in tutte le lingue del mondo, non è l'espressione di un'idea, bensì dello sforzo di formulare un'idea. Essa rappresenta allo sforzo possibile per arrivare ad una concezione impossibile. L'uomo aveva bisogno di un termine attraverso il quale segnalare la direzione di questo sforzo, la fitta nebbia dietro cui sta, per sempre invisibile, l'oggetto di questo sforzo. Un'altra domanda che possiamo ascoltare dalle stelle è questa. Perché di notte il cielo è buio? Certo, qualcuno potrebbe rispondere semplicemente che, grazie al cavolo, non c'è il sole. Come potrebbe non essere buio? Ma le cose non sono così semplici. A suo modo, Japo si è espresso su questo problema, sempre in Eureka, e stiamo parlando del 1848. Se la successione delle stelle, scrive, fosse senza fine, allora il fondo del cielo si presenterebbe come una luminosità uniforme, come quella mostrata dalla Via Lattea. Dato che non ci sarebbe assolutamente alcun punto in tutto il cielo nel quale non esisterebbe una stella. La sola maniera, perciò, con la quale, in questo stato di cose, potremmo comprendere i vuoti che i nostri telescopi trovano in innumerevoli direzioni, sarebbe supporre che la distanza del fondo invisibile sia così immensa che nessun raggio proveniente da esso ha potuto finora raggiungerci. Questa stessa domanda se la pone invece in modo più breve rispetto allo stile letterario di Edgar Allan Poe, l'astronomo Olbers intorno al 1823, e da qui nasce l'omonimo paradosso, quello di Olbers. Eccolo. Il cielo notturno è incompatibile con un universo infinitamente antico, con un numero infinito di stelle uniformemente distribuite nello spazio. Per seguire la soluzione di questo paradosso, mi rifaccio al ragionamento di un video del canale La Fisica che non ti aspetti, che di nuovo vi consiglio e parla tra le altre cose appunto di questo paradosso. In questo caso partiamo dalla luminosità. Più è lontana la fonte di luce, più la luminosità apparente è bassa. Potremmo anche dire che la luminosità apparente è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Insomma, se si raddoppia la distanza, la luminosità apparente diminuisce di 4 volte. Ora immaginiamo di dividere l'universo in sfere e prendiamone in considerazione due. Una con un raggio che equivale al doppio del raggio dell'altra. Ogni stella nella sfera più grande sarà allora 4 volte più flebile dell'altro. Ma ci saranno 4 volte più stelle, perché la superficie è 4 volte più grande. La luminosità in queste due sfere dovrebbe quindi essere uguale. Se ci fossero infinite stelle e infinite sfere e se l'universo è infinitamente antico, tutta la luce ormai sarebbe arrivata fin qui, ma di notte è buio. Per cui o l'universo non è infinito o non è eterno. E come abbiamo già visto, questo concorda con il modello attuale che prevede il Big Bang. Ossia, l'universo in questo caso non è eterno e non contiene stelle infinite. Ma rimane comunque un paradosso, dovuto ad altro che è già scritto invece nel modello del Big Bang. Infatti circa 400.000 anni dopo il Big Bang c'è stata una fase nell'universo che viene chiamata di ricombinazione, dove si sono formati i primi atomi di idrogeno. L'enorme bagliore a cui questa fase ha dato origine con la continua emissione e riemissione di fotoni derivanti dalla formazione degli atomi di idrogeno, ha generato un universo opaco e super luminoso. Successivamente poi l'universo si è espanso, si è raffreddato ed è tornato come lo conosciamo, diciamo trasparente. Ora, siccome come abbiamo già visto, guardare lontano e guardare indietro nel tempo, non dovremmo vedere quello spettacolare bagliore della fase di ricombinazione. Non lo vediamo perché l'universo si sta espandendo. E quando vediamo oggetti molto lontani in via di allontanamento, la luce si va progressivamente spostando verso l'ergosso. È quel fenomeno che viene chiamato redshift o appunto spostamento verso l'ergosso. Più la luce è lontana, più lo spostamento è intenso. Quella luce è andata oltre l'infrarosso ed è caduta nel microonde. E quindi probabilmente se guardassi con un radiotelescopio vedrai provenire da ogni punto una tebole luminescenza a microonde, che è il residuo di quell'originale bagliore. Insomma, il cielo è luminoso, ma non lo è per i nostri occhi. E nel guardarlo dobbiamo affrontare uno spazio forse non infinito, ma non solo tremendamente grande, anche in espansione. Guardare il cielo diventa una continua sfida e per farlo abbiamo bisogno di strumenti intellettuali e dati, come quelli che abbiamo visto, o come le costellazioni. Ma di nuovo, le stelle allora ci chiedono cosa sono le costellazioni. Perché per costellazioni si intendono gruppi di stelle utili per tracciare una mappa del cielo, anche se poi hanno ricevuto molti simboli astrologici, culturali, spirituali, perfino religiosi. Cos'hanno però davvero in comune le stelle di una medesima costellazione? Per esempio quella W di Cassiopea. Ecco, in realtà le costellazioni sono una nostra illusione, un modo utile per riconoscere gruppi di stelle nella stessa direzione, ma non sono davvero vicine tra loro. Le costellazioni servono per orientarci, sono regioni del cielo, prendono nome e forma da figure simili, non sono reali, non sono alla stessa distanza, sembra solo in prospettiva. Non hanno legami oggettivi, ma gli diamo noi dei legami per poterle riconoscere, probabilmente affidandoci a quello strano effetto che viene chiamato pareidolia. Insomma, allo stesso modo in cui guardando una nuvola talvolta vediamo un gelato o siamo certi di vedere un volto nella roccia. Noi vediamo le costellazioni e così le riconosciamo. C'è anche da tenere presente che a seconda della posizione e del periodo in cui si guarda al cielo questo cambia, e c'è anche da tenere presente che in diversi sistemi solari le costellazioni sarebbero deformate e peraltro il sole lo vedremmo solo come uno dei tanti puntini. Eppure le costellazioni ci offrono sia uno strumento per orientarci in quella vastità di spazio, sia una serie di storie senza tempo, come quella di Ercole o di Andromeda. Visto che è una puntata piena di consigli, se volete approfondire cercate il bel video di Oneira sull'argomento, come si osserva il cielo per iniziare. È un video che per qualche ragione oscura, oltre a farmi venire voglia di cimentarmi nell'astrofilia, mi ha ricordato la poesia di Walt Whitman, l'astronomo. Quando ascoltai l'astronomo erudito, quando le dimostrazioni, i numeri, furono dispiegati dinanzi a me, quando le carte e i diagrammi mi furono mostrati per sommarli, dividerli e misurarli. Quando ascoltai, trepidante, l'astronomo, nell'aula delle sue famose lezioni, quando inspiegabilmente presto divenni esausto e sofferente, fino a quando alzandomi e scivolando via, iniziai a vagare in solitudine, nell'umida e misteriosa aria notturna, e secondo dopo secondo volsi lo sguardo alle stelle, nel perfetto silenzio. Insomma, a volte il cielo non va solo studiato, va incontrato e ascoltato. E forse, tra tanti enigmi, ci offre anche un motivo per smettere di preoccuparci. Alla fine siamo solo un granello di polvere su una piccola roccia nell'universo, che è solo un altro granello di polvere in uno spazio che non solo è gigantesco, ma per beffarci continua pure ad espandersi. In tutto questo, preoccuparci per l'esame che dobbiamo affrontare, il discorso che dovremmo fare, l'appuntamento a cui dobbiamo andare, diventa praticamente insensato. Dovremmo, forse, prendere le cose più alla leggera, quando crediamo di avere il destino dell'universo sulle spalle. Perché non lo abbiamo. Piccoli come siamo, abbiamo però non solo l'occasione di guardare quella meravigliosa notte, ma anche di decidere con che occhi farlo. Con quelli poetici della poesia di Leopardi o di Whitman, o chi per loro, o con quelli scientifici degli astronomi e degli astrofisici, o con un misto di detective story, poesia e filosofia, come nel caso di Edgar Allan Poe. Con lui abbiamo iniziato, e con lui vorrei finire. Verso la fine del suo particolarissimo saggio, o poema, Poe scrive nella costruzione di un intreccio, nella finzione letteraria, dobbiamo mirare a combinare gli avvenimenti in modo che noi stessi non saremo più capaci di decidere, per ognuno di essi, se esso dipende da un altro o se ne è la causa. In questo senso, naturalmente, un intreccio perfetto è di fatto praticamente irraggiungibile, ma solo perché è modellato da una intelligenza finita. Gli intrecci di Dio sono perfetti, l'universo è un intreccio di Dio. Ora stacchiamoci però da Poe e dalle stelle. Cambiamo stanza. Cerchiamo lo spunto nudo e crudo di oggi. Ne parleremo poi meglio nella prossima puntata, ma per ora fermiamoci su quello di cui parla Poe. La letteratura e in particolare la poesia. Questa stanza, infatti, non è altro che un caldo e intimo studio, che ci invita a sederci allo scrittoio, lontani da qualsiasi fonte di distrazione esterna. Qui possiamo fermarci e provare a praticare un'arte, che, come ci ha suggerito Vonnegut, non importa a quale livello di consapevolezza tecnica si pratichi un'arte, è un modo per far crescere la propria anima. Accidenti. Cantate sotto la doccia, ballate ascoltando la radio, raccontate storie. E perché no? Scrivete poesia. E se non avete mai provato, rileggete ancora Vonnegut. Dobbiamo continuamente buttarci, scrive, giù dagli strapiombi e farci crescere le ali mentre precipitiamo. Scrivete, allora, una poesia per un amico. Scrivetela meglio che potete. Otterrete una ricompensa enorme. Avrete creato qualcosa. Dopodiché, se volete, potete anche distruggerla. Ma di nuovo, fatelo bene. Siate creativi. Io sono un emerito di. Questo era le stanze di Sofia. Se volete, potete invitare altra gente in questo palazzo, condividendo questo podcast. E, in ogni caso, alla prossima puntata. Grazie.